È un progetto che ci ricorda quanto sia importante utilizzare la leva dello sport in realtà per arrivare anche ad Alpro. Quindi siamo veramente riconoscenti a chi l'ha reso possibile. Io credo che davvero questa iniziativa sia estremamente positiva. Io porto tanti anni nel tennis, non avrei stato mai mai capace di portare un progetto così avanti. Queste persone che fanno questa cosa, no profit, come ha detto Emilio, è una cosa unica, mai esistita. Mi sono rivisto nella High Tennis Foundation e mi è venuta per la doca. Mi associo in un applauso a queste iniziative qui che fanno benissimo a questi giovani. Ti sei iscritto al master? No, però lo farò subito, non vedo l'ora, spero subito di poterlo fare. Porte Village è abitaccia aperte, è un prodotto con grande entusiasmo, partecipo a questo splendido meritorio progetto. Grazie li devo dire io, innanzitutto High Tennis Foundation, per coinvolgerci su temi di passione, futuro rispetto, fa parte del nostro DNA. Penso che con questa iniziativa si possa iniziare a costruire un mondo migliore. Ho capito che era una cosa bella che bisognava sostenere. È un progetto molto ambizioso, però noi ci siamo. Grazie a tutti.